C'era una volta il magico mondo delle fiabe e questo il tema della nuova edizione di Sanremo in fiore di domenica 13 marzo, la celebre sfilata dei cari fioriti che rinnova la tradizione del carnevale dei fiori di Sanremo nato nella belle époque. 13 comuni in gara, Taggia, Golfo Dianese, Ospedaletti, Dolceacqua, Seborga, Vallegrosia Camporosso, Bordighera, Isola Bona, Riva Ligure, Cipressa, Ventimiglia, Santo Stefano al mare. Saremo come sempre fuori concorso e apre la sfilata. L'amministrazione comunale ha fatto una scelta di cuore con l'omaggio ad Antonio Rubino. Dopo il festival della canzone italiana, commenta l'assessore al turismo e alla cultura, Daniela Cassini, saremo in fiore e l'evento di punta del calendario Manifestazioni del Comune. È una vetrina importante per far conoscere i fiori, le bellezze e le peculiarità anche gastronomiche della nostra città. Grazie alle riprese televisive di Linea Verde, che rappresentano un'imperdibile occasione di promozione per tutto il territorio. Migliaia le persone che ogni anno si recano a Saremo proprio per assistere all'evento. Il corso fiorito nasce nel 1904 con il nome Festa della Diaflora. In quell'occasione sfilavano lungo le vie di Saremo carrozze ornate e decorate da composizioni floreali con prodotti provenienti dal territorio. La sfilata di domenica 13 marzo prende il via alle 10.30. Sono previsti tre giri. Il percorso ad Annello si snoda lungo le seguenti vie piazze cittadine. Lungomare Italo Calvino, piazzale Carlo da Porto, ex stazione ferroviaria, tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio Sino ai giardini Vittorio Veneto. L'accesso al percorso è libero e gratuito. I posti a sedere nelle tribune sono a pagamento e sono posizionate sul piazzale Carlo da Porto. Presidente della giuria è Cino Tortorella, noto come Mago Zulì. Quest'anno il corso fiorito si arricchisce con gli eventi della giornata precedente, sabato 12, e coinvolge tutta la città. Per Saremo in Fiore 2016 sono attese in città 50.000 persone. Per Saremo in Fiore 2016 sono attese in città 50.000 persone.